Roma Empoli 7 a 0 ragazzi nulla da togliere alla Roma che sicuramente ha fatto una buonissima prestazione ci sono anche stati degli spunti molto interessanti mi è piaciuta molta prestazione Renato Sanchez anche lo stesso Cristante ma ragazzi l'Empoli che ho visto stasera è completamente diverso dallo scorso anno Ma che di hell? Ma che di? Ma che di? Ma come? Ma come? Ma come? Ma come ragazze ma che è successo? Ma che è successo? 7 a 0 7 a 0 raga Oddio! Sette! 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 Noi non abbiamo mezze misure o dominiamo e perdiamo o dominiamo e pareggiamo o dominiamo e vincemo 7 a 0 Sto sudando non sono abituato 7 gol da parte della mia Roma ma da quant'è che non capitava? Sono anni che non accade una cosa del genere soprattutto con Murigno in panchina ne abbiamo fatti 7 all'Empoli Devastanti! Devastanti questa sera! Questa Roma sarebbe da scudetto sarebbe sì sarebbe perché quella vista questa sera è qualcosa di devastante al completo sono tornati tutti Giallo-Rossa è unica questa maglia è magica per me e tu lo sai la domenica ovunque tu sarai ti seguirò Roma magnifica Roma straordinaria inchinatevi alla Roma inchinatevi a Murigno questa sera ha dato spettacolo calcio champagne Giocano bene tutti di bala ovviamente gioca bene Renatone Sanchez che torna al gol dopo non so quanto tempo e lo fa bene ma una sorpresa a me carissima è stato Christensen Christensen che finalmente è un esterno che qualche cross così è l'ha azzeccato anche addirittura ma una Roma veramente incredibile oggi Una Roma che mi ha stupito mi aspettavo sì una vittoria ma così larga neanche nei sogni più profondi remoti e impensabili mamma mia Mamma mia che cazzo di partita era quello che che ci serviva ragazzi questo risultato con un Empoli che è proprio allo sbando Allo sbando da quando iniziato il campionato ma anche noi eravamo comunque allo sbando però prendetemi per pazzo ma forse il miglior in campo non lo do a qualcuno che ha segnato ma lo do proprio a Andica ragazzi il difensore centrale che c'è Murigno ma perché non lo facevi giocare prima? 3-0 4-0 ho detto a Badanna ma dormi e da monsenza staserata però poi ho visto la luce un lampo di luce nel buio totale Chiaramente mi ripetisco a Brian Christensen che ha segnato il 6-0 che ha segnato il 6-0 Brian Christensen assist di tacco Stinco sinistro e stinco destra dribbling e passaggio dentro per Paolino Di Bala Cioè questa è la Roma di Brian Christensen finalmente libero di svagare più alto Adesso mi devi dire eh ma avete vinto contro l'Empoli tanto non cambia niente c'è sempre una serita roba Come fa Lukaku? Come fa Lukaku? Eh? Come fa Lukaku? Eh? Si vede che la Roma ha un cambio ma di quelli pazzeschi perché ragazzi la Roma non è quella contro la Salernitana Non è quella contro il Verona o quella contro il Milan Ragazzi oggi ho visto una Roma proprio diversa ma diversa proprio al 100% Ma parlo di tutti i giocatori che ho visto oggi in campo Di tutti i giocatori che ho visto oggi in campo Veramente ragazzi Una roba Guarda Empolese Empolitano Come cazzo ti chiami guarda Pecorino buccianera Vedi? Sughetto Guancialotto Pasta E ti fai una bella matriciana Perché tanto queste ne hanno fatti sette Sto malino Sto un po' malino Sto un po' malino Aspettate Aspettate